Il bello del cattivo tempo, siamo in un teatro ma c'è un meccanico, che è successo? E questo mi chiama, devo venire per forza, mi ha portato una macchina, mi ha portato una multipla, lo sanno tutti, la multipla non è una macchina, è a custodia della smart, comunque continua, continua No, volevo capire che c'entrava un meccanico in teatro, io cercavo gli attori e invece trovo un meccanico Diciamo che è stata un'emergenza, è stata un'emergenza, non avremmo voluto ma alla fine è qui, Gasparetto E sto qua per fare una protesta, a sto punto approfitto, mi hanno piazzato una statua di Giulio Cesare davanti all'officina Io qualcosa devo fare, sta statua va tolta, mi impedisce la normale circolazione delle autovetture, non la sua, quelle normali che mi entrano in officina i clienti E che c'è te strano, scusa, non ti sta mai bene niente, scusa Guarda io ho studiato la storia, io voglio sapere cosa avrà fatto mai sto Giulio Cesare per meritarsi un posto d'onore davanti alla mia officina Quello si è autonominato, imperatore, sono buoni tutti, io domani mi sveglio e sono l'imperatore dei meccanici, che ci vuole? Poi dice hanno ammazzato, è normale, usate hanno ammazzato Giulio Cesare? A piazza, a largo argentino Bravo, vicina alla fermata dell'Otto E che c'entra? C'entra perché dice sono stati i senatori Quello era uno che stava a aspettare il tram, non arrivava e si è presa chi è imperatore, te lo dico io comandato E' una colpa sua E' colpa sua, è colpa sua Quindi poi 23 coltellate Tutti i lati che aspettavano e chi i mezzi erano vieni pure allora Tutta gente che aspettava il tram E quindi ora che dobbiamo... Allora questa situazione si può risolvere, si può risolvere Se viene, dobbiamo creare, capito? Una raccolta firme Ok, bravo Giusto? Giusto E quando ci sarà questa raccolta? Bravo Al teatro Carbatella, il primo e il 2 dicembre Facciamo una raccolta firme per risolvere questa situazione Non è necessario che portate la penna, ce l'abbiamo noi Però portate, perché per raccogliere le firme Porta 500 euro Facciamo una cosa, io me ne vado perché c'ho da lavorare in ufficio Chiudete voi Chiudete voi Allora ricordiamo l'appuntamento dell'1 e il 2 dicembre al Teatro Carbatella In realtà l'1 lo spettacolo è alle 21 e il 2 è la pomeriggiana alle 18 Vi aspettiamo in massa Oh, ma che avete pubblicizzato lo spettacolo? Sergio scusami Ma non mi chiamate! Ma no, ma non è stata per cattiveria, ci mancherebbe Vabbè, avete detto tutto? Non tutto Non tutto Per esempio possiamo dire che nello spettacolo c'è Sergio Viglianese Sergio Viglianese, Alessandro Mago Mancini La regia è di? Sergio Viglianese! Le scenografie Sergio Viglianese E l'ha scritto soprattutto Sergio Viglianese Che fatica Non voglio sapere né le luci né la fonica No, meglio di no Sergio Viglianese Per gli amici del bello e il cattivo tempo e del macchie comico c'è anche una riduzione speciale Assolutamente Vogliamo dire? 1 e 2 dicembre, sabato e domenica Perfetto Lo aspettiamo Grazie Sì, ci vedete la fa Sabato e domenica Vado a vedere il gas Sì